Giornata di consiglio regionale all'emiciclo, ma a tenere banco è la questione Marcozzi e le tensioni in maggioranza. Fratelli d'Italia e Forza Italia vogliono la sesta commissione permanente in consiglio e la poltrona sarebbe già pronta per l'ex 5 Stelle Sara Marcozzi, presidente della commissione di inchiesta sull'acqua, che in pratica ha esaurito le sue funzioni per le opposizioni, che di fatto sarebbe già in maggioranza. Per questo i due partiti vorrebbero la modifica del regolamento interno, mentre la Lega dice no e ha preparato tre emendamenti. Riteniamo che gli argomenti che debbano essere trattati rispetto al ciclo idrico sono di natura sostanziale e chiaramente ci sono già diverse commissioni che li trattano all'interno del loro programma. Pensiamo che non sia necessario istituire una nuova commissione per trattare degli argomenti specifici che possono essere trattati all'interno della seconda commissione o magari essere integrati all'interno di qualche altra commissione presente nel programma delle commissioni consigliere regionali. Vi preoccupa un po' questa tensione? In maggioranza c'è tensione? Non mi pare che ci sia una grande tensione, ma chiaramente è una diversità di vedute rispetto a un tema. Siamo tutti convinti che il ciclo idrico e tutto ciò che siano i problemi del ciclo idrico sono di fondamentale importanza. Noi, a differenza di altri, riteniamo che non sia necessario per forza istituirne una commissione ad hoc, ma sia sufficiente magari parlarne all'interno delle commissioni già presenti. I 5 Stelle già hanno espresso in commissione la loro volontà. Un no secco, non servono altre commissioni. La modifica all'articolo 29 dello Statuto permetterebbe a questa maggioranza di aprire una serie infinita di commissioni. Oggi la sesta per quello che riguarda l'acqua, che ha finito quello che erano i lavori di aula all'interno spiegando effettivamente quelle che sono le criticità. Ci sono commissioni competenti che hanno già in pancia quello che è la criticità dell'acqua. La seconda e la terza possono portare avanti tutte quelle che sono le evidenze che sono venute fuori nei lavori fatti sulla commissione d'emergenza dell'acqua. Quindi il no è un no secco alla modifica dello Statuto. E anche il centrosinistra ha una posizione netta e dice no. È evidente comunque che il risultato del voto a Teramo abbia prodotto diversi effetti. Sono cominciati infatti i cambi di casacca. Ma siamo contrari. Abbiamo atteso in questi giorni che si spiegasse il motivo reale per l'inserimento di una nuova commissione. E nella dialettica della maggioranza, nello scontro interno, abbiamo potuto constatare che il motivo non è l'oggetto di quella commissione, ma è tutto uno scontro politico da un lato per allargare la maggioranza e dall'altro all'interno stesso della maggioranza. Queste non sono motivazioni che possono consentire al centrosinistra di dire di sì. Quindi diremo no. Grazie.